Ben Berdingozzano sfuggita al comune nell'asta per una manciata di euro, adesso si sono fatti avanti i nuovi proprietari, che intenzioni hanno? Beh, allora al momento hanno sicuramente tante proposte da mettere in campo e verranno a presentarle prossimamente. Prossimamente naturalmente in maniera molto semplice perché l'area ha una dimensione tale che non consente di affrontare un progetto assolutamente definitivo. Quindi la proposta la stiamo aspettando per la fine del mese e cominceremo a confrontarci su quelle che saranno le proposte e le richieste del comune. Il comune ha un credito molto forte nei confronti di questa azienda, come può rientrare? Allora ci sono dei contenziosi in corso, di questi contenziosi se ne stanno occupando gli avvocati, quindi l'amministrazione sta semplicemente monitorando. È chiaro che in un discorso di recupero dell'intera area e quindi nella redazione di un progetto esecutivo attraverso uno strumento urbanistico esecutivo ci saranno delle richieste da parte dell'amministrazione o di porzione di area o comunque di lavori pubblici. Vedremo un po', è ancora tutto in stato decisamente embrionale. La nuova società dovrà oltre a mettere in sicurezza fare una bonifica, una bonifica che sembra che costi oltre una decina di milioni. Sì, questi sono i costi stimati. Prima di tutto per dare delle cifre definitive sarà necessario da parte della società effettuare l'intervento di caratterizzazione del sito e quindi entrare nel merito attraverso le indagini di quelli che sono i materiali inquinanti presenti nell'area e presentare questo piano che deve essere prioritariamente approvato dagli enti preposti, quindi ASL, ARPA, Regione, Provincia e anche il Comune.